Dopo aver ottenuto il finanziamento regionale di 90.000 euro nel mese di luglio per la realizzazione di orti in aree dismesse del territorio, il Comune di Lucca, uno dei sei comuni pilota a livello regionale per l'iniziativa denominata appunto 100.000 orti in Toscana, ha organizzato un momento di approfondimento dell'iniziativa dal titolo significativo Coltiviamo la città. Queste aree verranno recuperate attraverso questa idea degli orti che hanno una caratteristica di coinvolgimento non soltanto delle persone anziane come è stato finora ma anche di giovani. Vogliamo che divengano un punto di aggregazione, di iniziativa anche di carattere culturale sui temi dell'alimentazione, dei prodotti locali, della coltivazione della terra e che coinvolgono più generazioni in varie zone del nostro territorio. La mattinata è iniziata con un sopralluogo al giardino dell'ex convento di Santa Chiara dove sono attualmente in corso gli interventi per la sistemazione dell'area abbandonata da anni. L'ex giardino del genio civile ceduto dal demanio gratuitamente all'amministrazione comunale sarà pulito e attrezzato per divenire un community garden dove cittadini di tutte le età potranno fare l'esperienza diretta di coltivazione di ortaggi, fiori ed essenze. La mattinata è poi proseguita con un convegno di approfondimento del progetto.